Pyramid Aesir, Activated! Viman! Sì, niente da Enesi. Ok, sono all'obitorio. Entro. Non potremmo saltare i preliminari. Bene, c'è qualcuno. Inoltre. Viman! Vediamo. L'acceleratore. È importante, non so. Sì, sì, sì. La metà sono tenere. Sì, sì, sì. Sì. Grazie a tutti. E così comincia. Ti stavamo aspettando, John. Mar, Tash, Boussard. Vai all'inferno. Mar, Tash, Boussard. 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 Ah! 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 Oh! 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 Oh 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 Dove esserci un modo per spegnere queste fiamme Brucia l'inferno Constantine Mar Tash Bo Sar Oh Silenzio Non posso Ho paura Pensavo fossero tutti morti Lo sono Resti qui Te l'avevo detto che sarebbe andato tutto bene Cosa sta facendo? Che cos'è quello? Che cos'è quello? Chiavi della manutenzione L'antincendio L'antincendio So Fat Multiple Dei Asi Se Da Actor Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avevo appena catturato un intruso che è scoppiato l'inferno. Mi senti, amico? Jay! Hai sentito? Che diavolo era quel rumore? Oh, mia c***a. Che diavolo sono quegli affari? Salutami il tuo capo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I suoi vecchi trucchi, padre? A meno che non ne conosca di nuovi. Cercavo il cadavere di Elryu e quella guardia mi ha fermato. Poi i demoni hanno fermato lui. Ha trovato un coppio? In laboratorio, su questo piano. Resti qui, vado io. John, aspetti, prenda queste. Potrà entrare nel laboratorio. Le aveva lui. Questo posto brulica di caduti. Attenzione. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.